Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89 Saremo arrivati a 30.000 like, l'avete voluto vedere alle 19, ve l'avrò messo alle 19? Non le ho idea Siamo tornati qua, su Ascontri Diretti Mettiamo sicuramente la password Fanculo tu mamma Che cosa? Quindi, fanculo Tu Mamma Ok Non è abbastanza Mosquito, facciamo più in fretta degli amici della libertà 100 dollari di ricompensa, sapete cosa vorrebbe dire per il nostro franchise? Quel gatto sembra vecchio, magari è crefato da qualche parte Aquilon Man, devo ricordarti che oggi gli amici della libertà hanno centinaia di seguaci su Instagram Noi solo 6, noi 5 militarner che un pel di carota Questo è il modo di battere finalmente quegli stronzi Dove cerchiamo? Dov'è quel gatto? Dobbiamo separarci Mosquito, vola e controlla i parchi della città Ricci molto Mosquito, parte Aquilon, vedi se il gatto è intrappolato su un albero Controlla gli scoli, Supercadre Supercadre Faspas, devi usare la tua velocità sovrumana per andare dal sindaco e dirle che accettiamo il caso Non temere, puoi contare su Faspas, è arrivare in Fredda Fredda Ok Allora sto vedendo se posso avere un'interazione qua Ok, quindi penso che quelli siano gli eroi, quella roba là Ehi, 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 ehi Non toccare Quel dispositivo potrebbe far esplodere l'intera galassia E che cazzo Calmo Ok Ok Ho detto che non puoi giocare Non sei un supereroe Non hai costume Non hai superpoteri Eh, e va bene Puoi guardarci fare i supereroi Basta che non rompi le palle Renditi utile Vai là a prendere il dispositivo Staffernisi Ah, però io voglio un cazzo di Sono costumi su misura per la corporatura del procione Devi essere in gran forma per indossarlo Ok Quindi qua Eccola, eccola L'ho trovato Trovato Oggetto chiave Quindi devo No, ma io voglio un costume Cartman Non rompermi le palle Se ne hai messo di tempo Staffernisi attivo Vuoi davvero diventare un supereroe? Sì Gioccare con i grandi? Beh, forse Forse puoi renderti utile Siediti qui, strozzetto Vediamo Le abilità di Moskitoman Porca troia Ma in che lingua sono scritte? Troia Non interrope il flusso del procione Allora Mi voglio sedere qua Bene Per giocare i supereroi Devi sembrare un supereroe Solo dopo metterai il tuo personaggio su Proc'Instagram Sai su Proc'Instagram? No, non sei neanche su Proc'Instagram Beh, posso crearti io una pagina Incredibile, cazzo La prima cosa da inserire è la tua classe di supereroe Che tipo di supereroe sei? Sei un novellino Per ora puoi scegliere solo fra tre Potere di velocità Ok Le leggi di trafica sono semplici suggerimenti della velocista Un eroe in grado di piegare lo spazio-tempo a suo piacimento per amor di giustizia Brutalista Il brutalista è un piccatore a distanza ravvicinata Specializzato nell'utilizzo di pugni che usa per spedire in orbita i nemici Blaster Non limitarti a guardare bruciare il mondo Incende tu stesso nei panni del blaster Questo combattere le dalle a qualsiasi distanza frega uno sacco di danni Oddio ragazzi sono Potere di velocità Oddio sono molto Molto Brutalista Potere di velocità Allora, dato che mi sto vedendo flash con la mia ragazza Scegliamo velocista E basta, sono veloce Me ne frega niente Regà Dai, dai, dai Velocista, velocista, velocista Scopriamo quale tragico evento passato ti abbia influenzato Sai, ogni supereroe deve avere alle spalle una storia facile Un fulmine, un fulmine È da lì che i suoi poteri acquisiscono significato Quindi torniamo indietro alla tua infanzia Un fulmine, un fulmine, un fulmine Non riesci a dormire Come molti altri notti Perché sai di non essere come tutti gli altri bambini Ti avvicini allo specchio Ti avvicini allo specchio Ti avvicini allo specchio È un attimo, va bene Ma avvicini allo specchio Ed è allora che tutto accade Un rumore Ti ricordi tua madre in chiedere aiuto Ok Esci dalla stanza Eh, ho capito Non mi faceva uscire, giuro Davanti alla porta della camera dei tuoi Devi impedire che ti aggrediscano Sai di poterli fermare Così per la prima volta invochi i tuoi poteri di velocità Con i tuoi poteri di velocità Riesci a piegare lo spazio-tempo Per lanciarti fulmine o nell'azione Ok Che sarebbe quadrato? Colpisci attivo con un pugno Ok Dai, non ho capito Usa il potere, non si va avanti Ah, ah, ah Da qua, da qua, da qua Ok, oh Ah, ok C'era la X, perfetto Ok Gli intrusi vanno incontro alla sconfitta Ogni particella del tuo corpo vibra Per farti diventare inarrestabile Ok 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 Quindi così Ok Ok Parato Esausto per la tua carica doppia lama Rimani inerme Non puoi scappare da questo Ok Si è ferito ma l'intruso ha commesso un grave errore Ti ha fatto incassare Ok Raccogli le tue ultime forze Ti affidi alla tua abilità definitiva Furia del riperdivazio Eh eh, niente male Dai raga Oddio è fighissima Oh, troppo veloce E ribatti Tutto è perfetto finché Non arrivi alla porta della camera dei tuoi Ciò che vedi quando apri quella porta Cambia la tua vita per sempre Per questo ora combatti il crimine Sei arrivato tardi Perché quando spalanchi la porta Vedi Vedi il tuo padre Tu madre Wow Una storia triste e cupa Sei un supereroe perché non scordi la notte in cui sei arrivato tardi Hai visto il tuo padre e l'uomo di cui ti fidavi Farsi tua madre Ah raga è la storia di Flash È la storia di Flash Sei un supereroe Ho una missione per te Dovresti andare in città E ottenere più seguati possibili Su pro c'instagram Solo così il franchise può sopravvivere D'accordo Oh ragazzi È fatto Di una bellezza È veramente fatto Troppo bene Troppo bene ragazzi È incredibile Troppo 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 Ah ok Ok Quindi gli chiedo una foto Oh un selfie Ne ho sentito parlare Oddio ragazzi Ma che cosa cavolo stiamo facendo Ok Io vi giuro ragazzi Oh fantastico Ci vediamo su pro c'instagram Oddio Per aprire il mio telefono Ok Cioè ragazzi È incredibile Ok Ragazzi È Pazzesco Cioè praticamente Io devo andare in città Ma vaffanculo Hai capito Bastardo Questo pure sicuramente Per avere un selfie con me Immaginavo Riporto costume Non ho ben capito Allora là c'è qualcosa Che sicuramente Mi interessa Però non credo Che posso arrivarci In questo preciso momento Eh lo so No non posso ancora prenderlo Quello molto probabilmente E anche per sogno Non posso farmi un selfie Con uno come te Ah no Ho capito Però Eh vaffanculo Novellino Hai raggiunto la fine Dell'universo conosciuto ormai Eh Avanti c'è solo il limite Dello spazio-tempo Ok Quindi mi fa tornare indietro Va bene Qua è bloccato Ok Questa non so Di chi sia questa casa Oh ciao Spero che diversamente da Butter Se tu ti tenga lontano dai guai Eh Io e i guai siamo cose completamente differenti Eh Veramente Ah ok Forse ero Esatto Ero rimasto bloccato Ok Figo Forse ero rimasto bloccato Per questo Immagino che ora possiamo farci un selfie insieme Ah ok Ok Era questo l'obiettivo Era questo l'obiettivo Raga Bene 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 Perché Mi ero rimasto bloccato E vi giuro Non capivo Abbiamo abbastanza amici in comune Per farci un selfie Ah Dai 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 Ok Ehi niente male Ottieni follower in fretta Continua così Non riesco a trovare alcuni amici del procione Scopri che sta succedendo Ok E dove dovrei andare Ah ok Mi ha aggiunto una nuova app Tra l'altro Andiamo su mappa E io devo fare tutte queste cose qua Premi 1 per visare le dimensioni disponibili Parla con Super Craig E incontra Kyle a casa sua Che io farei sinceramente Incontra Kyle a casa sua Perché Ok 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 l'ho segnata L'ho segnata quindi Ah ok Perfetto Perfetto Eh ma Sti tassi Non li imparerò mai Tutti Non li imparerò mai Tutti sti tassi Non me li ricorderò mai Ok Ok Qualcuno gli ha cagato sulla macchina Probabilmente Ehi tu Sai qualcosa al riguardo Graffiano la macchina di mia moglie di notte Missione secondaria Pensavo che fosse un fottuto ragazzino Ma Vieni qui a dare un'occhiata Chiunque sia Ha anche lasciato dei biglietti Forse potrebbe essere Un amante respinto Non mi dimenticherai facilmente Pensavo ci fosse qualcosa tra noi Racconterò tutto Stronza Ascolta Se siete in giro stanotte E prendete chi graffia la macchina di mia moglie Vi seguirò sopra c'instagram Fidatevi Vi conviene Io sono Un pezzo grosso qui in città Ok Va bene Va bene Terremo Terremo in considerazione Fatemi vedere se c'è Qualcosa di buono No Non c'è niente di Di buono In realtà Sicuramente Qualcosa mi son perso Allora proseguiamo Ok io quando questo lo sposto Salgo qua Ok E abbiamo preso cose Che non mi sembra che ci sia altro Magari qua Ok Sto prendendo frammenti Come se non ci fossero domani Ragazzi Quindi Ok Lui sta là Prima vado a vedere in giro se trovo Qualcosa di figo Vado a lutare in giro ragazzi Ho preso sieri Cose Qua fuori mi sembra che ci sta E immaginavo E immaginavo Va bene Va bene va bene Ma credo che adesso non dobbiamo farci niente con sta roba Presumo Perché tanto lui sta qua Chi diavolo sei tu Hai mandato un novellino per rispondere al mio segnale di aiuto Sei proprio un coglione Procione Il mio problema è troppo grosso per un novellino Qualche giorno fa C'è stata un'anomalia nell'universo Un'altra versione di me Aquilon inventa un'altra dimensione È compasso qui e sta distruggendo tutto Ora è di sopra nella mia stanza Niente potrà fermarlo Ok Adesso quindi Ok C'è l'universo da dove proviene Aquilon Man Non posso affrontarlo per ovvi motivi Sai per via degli universi paralleli Dovrei anche tu a farlo fuori Devi spaccargli il culo E devi farlo tornare nel suo universo del cavolo Pronto Si parte Ciao Kyle Sono tornato Chi è che è venuto a giocare con noi? Me stesso è di un altro universo Ora devi tornare da dove sei venuto Ma cosa dici Kyle? Siamo una squadra Non vengo da un altro universo Noi siamo amici per la pelle Come vedi è lui che va in giro E infangare il nome di Aquilon Man È qui per distruggermi E indebolire i miei poteri No, sono qui per passare due settimane Con mio cugino e giocare ai supereroi Lui mi ha detto Ok, quale supereroe vuoi essere? Io ho detto Aquilon Man Ma lui ha detto Non puoi, sono io Aquilon Man E io ho detto Perché non possiamo essere tutti e due Aquilon Man? E così sono andato da zia Sheila Lei ho detto che voleva essere Aquilon Man insieme a lui E lei gli ha detto di fare quello che dico io Perché sono l'ospite Riccardi? Mi sta già sulle palle Mi dispiace, metti un altro universo Ma è ora che tu capisca Che giocare ai supereroi Può fare davvero male Ehi, ora dovrei distruggere il mio alter ego Oh cacchio Dobbiamo combattere? Proprio così Se vuoi davvero giocare È così che si fa Va bene Farò qualsiasi cosa Per somigliare a mio cugino E... Ok Iniziamo combattimento Non ho fatto molto sparring È una cosa a contatto leggero, vero? Contatto pieno Niente sparring No, è impossibile Non ho portato le mie protezioni Ora Prendilo a novellino Cugino Ken Vado, vado, vado Allora facciamo Non posso Aspetta Ah ok Così sì Ok Non gli ho fatto niente Ci sono parecchie decisioni Da prendere in questo gioco Potete anche decidere Di non giocare No, non scherziamo Non gli ho praticamente Fatto niente Allora a sto punto Mi potenzio Ok Quindi cerchio Vai Beh, buon comicio Fagli male, eh Ah, quindi posso Ricoprirlo Nuovamente Vai Mi hai fatto male Alla spalla È sensibile Me la sono stirata Mentre prendevo un palloncino È certo Il mio orecchio interno Sembra essere stabilizzato L'ultimo colpo Non vale, vero? Ero confuso Ma dai Ma non è vero Ma dai Non ho fatto troppo forte Vero? Non voglio causare danni permanenti Mi serve una pausa Per usare il mio inalatore Vai Sicuramente Devo caricare la super Ragazzi Sicuro Cogino Kai L'ho chiesto una pausa E non mi ha detto netta Lo sai che la mia asma Peggiora sotto il forzo Sì Penso che sarebbe Molto più giusto Se avessi uno scudo Tipo questa Sefer Torah Che ha anche un grande valore Sentimentale Eh Ma è un alieno Gli ebrei non c'entrano a niente E non puoi inventarti Nuovi poteri Durante un combattimento Non mi sto inventando niente È normale Nel mio universo parallelo Aie Che bastardo Ma dai Ma che balle Sto stronzo Facciamo Aspetta quel turno è mio Non del novellino Lui non ha aspettato Quando ho detto time out Quindi ora toccherebbe a me Mi prendi in giro Non vale così Sa fa tutto lui eh Ragazzi La sta giocando Come gli pare Sto bastardo Gli aquiloni Sono molto fragili Lo sai Cosa Ok ci siamo Il mio super potere definitivo Pronti Siete pronti Oh cavolo Ok Ira di Aquilon Man Da un universo alternativo Ma dai Ma dai Ma non ci credo Ma come è possibile Che imbecille Oh cavolo Mi è uscita di nuovo La regna Mi è abbastanza Altro me Questa storia Dei supereroi È dolorosa Meglio tornare Nel mio universo Oh ma te ne vai Che palle amico Sì ora me ne tornerò Nel mio universo Devo medicarmi L'orecchio Si è graffiato Dopo che ci hanno Scorreggiato Sopra Ma perché Che Ah e come alleato Adesso ho quella man Perfetto E scattiamo Va Perfetto Perfetto Allora fatemi lutare Un attimo qua in giro Tra l'altro Ho anche una nuova maschera L'ho vista L'ho vista Quindi se io faccio così Vado su Costumi Ho come Occhi No me fa schifo proprio Resterei così Perché veramente Me fa schifo Produzione Non so cosa sia Ah ok Invece l'inventario Non c'ho un modo Per potenziarmi Sapete che non lo so Ma sicuramente Lo scopriremo Man mano Che andiamo avanti Sicuro 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 Io intanto Vado A Luttare in giro Va bene Ho trovato un oggetto chiave Mi sembra Non ho idea Qui c'è il bagno Vedete che la Ok 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 Qua abbiamo fatto E in realtà Dovremmo uscire fuori Signori Io direi Che l'appuntamento di oggi Può finire qua Io continuo a registrare Se il video Se il video vi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo appuntamento A posto Ciao 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 Ciao